Risultati rafforzati nel 2019, il Lazio Toscane Umbria ha erogato più di un miliardo a imprese e famiglie. È positivo il bilancio di UbiBanca relativo ai risultati consolidati al 31 dicembre 2019, un anno in cui soprattutto nel centro Italia si è affermato con forza il nostro ruolo di istituto di credito di riferimento capace di accompagnare e rafforzare lo sviluppo sostenibile delle imprese, il benessere delle collettività e le progettualità future della famiglia, commenta Cristian Fumagalli, responsabile della macroarea territoriale Lazio Toscane Umbria di Ubi. La banca prosegue è stata scelta come partner per la concessione del credito portando sempre in un contesto economico nazionale che permane incerto i volumi delle erogazioni a circa 1050 milioni di euro, comprensibili ai finanziamenti a famiglie e imprese che spaziano dalle piccole alle grandi dimensioni di cui circa 656 milioni di euro nel Lazio, 274 in Toscana e 120 milioni in Umbria. Ulteriore testimonianza della partnership con il territorio e 387 milioni di euro di finanza strutturata erogati a favore delle medio-grandi imprese. Si riscontra sempre una tendenza in crescita, continua Fumagalli, pari a circa il 20% rispetto allo scorso anno per i mutui e prestiti alle famiglie con la Toscana che esprime la dinamica più favorevole pari a oltre il 30% da evidenziare un trend molto positivo anche dei dati sulla raccolta, a testimonianza della consolidata fiducia che i clienti nutrono nell'affidare i propri risparmi a una banca solida come Ubi. La ricchezza finanziaria è aumentata di oltre il 4% rispetto allo stock rilevato lo scorso anno raggiungendo l'importo di 13,1 miliardi di euro con una crescita sopra la media per la provincia di Arezzo. Oltre un miliardo di euro alle sottoscrizioni ripartite tra risparmio gestito, assicurativo e prestiti obbligazionari 532 milioni di euro nel Lazio, 365 in Toscana e 108 milioni in Umbria. Risultati resi possibili grazie alle professionalità che la banca possiede, prosegue Fumagalli, offerte nel centro Italia da 1.753 dipendenti che nell'anno hanno perfezionato le competenze dopo 140 mila ore di formazione specialistica a beneficio della relazione della consulenza offerta alla clientela. Il nuovo piano industriale sarà presentato il 17 febbraio e racconterà il modello di banca che Ubi intende perseguire per i prossimi anni.